Lecce, si apre una nuova stagione anche sul fronte delle verifiche dell'inquinamento del sito di Torre Veneri. È quanto annuncia il capogruppo di Lecce Città Pubblica Gabriele Molendini. Insieme al dialogo con i militari partono infatti, spiega, anche le analisi con la caratterizzazione della R.E.A. Una buona notizia sul fronte ambientale e della tutela della salute pubblica. Nel mese di maggio, spiega Molendini, è stata infatti appaltata l'attuazione del piano di caratterizzazione. In data 20 luglio è poi stato finalmente stipulato il contratto con le ditte vincitrici della gara. Al via, dunque, tutte le indagini del caso secondo il piano di caratterizzazione predisposto dal distebo dell'Università del Salento a seguito dello sforamento dei valori soglie è rilevato per alcuni inquinanti.